Incidente mortale nella Valle Roveto perde la vita un cinquantenne lungo l'ex superstrada dell'Iri. Covid ai dati di oggi in Abruzzo si registrano 40 nuovi casi. Le strade del Fucino piene di buche lo denuncia col diretti L'Aquila. Nuovo successo per il gruppo Coop oltre 35 mila chili di prodotti alimentari. Un cordiale saluto dagli studi di Antenna 2. Apriamo il giornale con una brutta notizia di cronaca. Incidente mortale questa mattina lungo l'ex superstrada dell'Iri a perdere la vita un uomo di 50 anni residente ad Avezzano, Roberto Facchini, sposato con figli titolari di due imprese di carburanti ad Avezzano e Capistrello. La sua auto, un SUV, si è scontrata con un camion che procedeva in direzione opposta e ha preso fuoco a causa dell'impatto per il conducente. Non c'è stato nulla da fare. Lo scontro è avvenuto tra le uscite di Civitella, Roveto e Morino. Immediato l'intervento, le vigili del fuoco di Avezzano che hanno spento l'incendio e poi estratto dall'abitacolo dell'auto il corpo senza vita appunto del conducente. Sulla dinamica dell'incidente sono in corso accertamenti tecnici da parte dei carabinieri. Ed ora spazio agli ultimi aggiornamenti sul Covid. Rispetto a ieri si registrano 40 nuovi casi di coronavirus in Abruzzo. Sono invece complessivamente 73.744 i casi positivi al Covid-19 registrati in Abruzzo dall'inizio dell'emergenza. I positivi con età inferiore a 19 anni sono 13, di cui 7 residenti in provincia dell'Aquila, 2 in provincia di Pescara, 4 in quella di Teramo. E il bilancio dei pazienti deceduti registra purtroppo altri due nuovi casi e sali a 2.471. Il numero dei casi positivi sono compresi anche 65.449 dimessi perché guariti, 122 in più. Gli attualmente positivi in Abruzzo sono 5.824, 84 in meno. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 1.098.018 tamponi molecolari, 4.095 in più e 455.421 test antigenici, 1.732 in più. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici del giorno è pari allo 0,7%. 176 pazienti, 7 in meno sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva, 17 in terapia intensiva, mentre di altri 5.631, 77 in meno sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle asle. E prende vita il progetto dello stadio dei Pini di Avezzano. La storica pista passerà da 6 a 8 corsie. L'amministrazione di Pangrazio scommette quindi su una nuova stagione di grandi eventi nella pista che in passato ha visto sfracciare campioni del calibro di Sara Simeone, Pietro Mennea e Fiona May. Ci siamo quasi quindi per la riqualificazione dell'impianto nella zona nord della città Borgo Pineta apri pista della gara d'appalto da oltre un milione di euro per rifare il look alla pista, le gradinate e gli spodiatoi del complesso sportivo stadio Punto dei Pini. Per accelerare l'iter, nelle scorse settimane il sindaco Giovanni Di Pangrazio ha affidato una delega d'occhio al consigliere comunale Concetta Balsorio, già presidente regionale della FIDAL. Le strade del Fucino sono malmesse, piene di buche, pericolose per i mezzi e le persone. A denunciare lo stato in cui versa la viabilità è col diretti L'Aquila che ha scritto al prefetto Cinzia Turraco una missiva per chiedere un intervento istituzionale e sollecitare i comuni e provincia a risolvere una situazione che genera problemi e malcontento. Al di là della competenza giuridica sulle strade, la situazione va risolta al più presto, dice Angelo Giommo, presidente di Coldiretti L'Aquila. Ad esempio, e senza per questo volersi soffermare solo per un comune, dice, sulle strade 10 e 11 di Avezzano, la situazione è arrivata a limiti e a livelli di sicurezza molto preoccupanti, sia per i mezzi agricoli che per le persone. Negli ultimi mesi abbiamo partecipato a diversi incontri con le varie amministrazioni comunali coinvolte, a partire dall'incontro nel comune di Avezzano lo scorso gennaio per le forti piogge che avevano provocato allagamenti e dissesti, oltre che ai campi circostanti. In occasione di quella riunione, racconta Giommo, era presente anche il consigliere regionale Giorgio Fedele, che aveva annunciato e fatto ottenere per le strade fucensi un impegno regionale di oltre 100.000 euro, il cui sviluppo operativo però a noi non è noto né constatabile. Insomma, allo stato attuale dobbiamo registrare solo promesse. Coldiretti chiede di superare le roboanti assunzioni di responsabilità e si appella quindi al prefetto chiedendo il suo intervento. Sono stati oltre 35.000 i chiedi di prodotti alimentari raccolti tra l'8 e il 15 maggio nei punti vendita Coop Centro Italia Superconti attraverso la nuova edizione della colletta alimentare Dona la Spesa. Grazie alla generosità dei clienti, quanto raccolto dalle centinaia di soci Coop e di volontari presenti nei negozi, è stato poi donato a 94 associazioni di beneficenza del territorio per aiutare le persone in difficoltà. Si tratta della prima edizione di Dona la Spesa di quest'anno, dopo che nel 2020 erano già state promosse altre due collette alimentari straordinarie e una colletta di materiali didattici e articoli di cancelleria tutte destinate a far fronte alle conseguenze dell'emergenza sanitaria tuttora in corso per sostenere i più bisognosi. Un impegno solidale continuo dunque che il gruppo Coop Centro Italia continua a promuovere concretamente sin dall'inizio della pandemia attraverso diverse iniziative solidali ed economiche nel rispetto dei valori fondanti la cooperazione di consumo. Il prefetto dell'Aquila Cinzia Torracqua ha ricevuto oggi in visita istituzionale Domenico Tedieri, che è il presidente della Fondazione Carispac compagnato dal segretario generale Davide Diagnemma. Nel corso dell'incontro il presidente ha avuto modo di illustrare al prefetto l'attività della Fondazione, i progetti e le numerose iniziative intraprese ed il ruolo che la stessa svolge anche in questo delicato periodo di emergenza pandemica. Il prefetto ha trasmesso il proprio apprezzamento per l'opera svolta dalla Fondazione sul territorio della provincia dell'Aquila e per l'alto valore di impatto sociale e culturale di salvaguardia del patrimonio monumentale. Tra le pieghe del bilancio la regione è riuscita a recuperare ben 45 milioni di euro che saranno utilizzati per sostenere i progetti sociali del lavoro e per l'edilizia residenziale pubblica. La decisione è contenuta in una delibera predisposta e presentata dall'assessore al bilancio Guido Liris. Si tratta di somme non utilizzate nel 2020 che avevano specifica destinazione e che grazie al lavoro promosso da Liris e dall'assessorato al bilancio potranno essere ora reescritte nell'esercizio finanziario 2021. Una cifra importante spiega l'assessore Liris che consentirà alle strutture competenti di procedere alla realizzazione di interventi in materia di edilizia residenziale pubblica di affidare i servizi a favore di Abruzzo Engineering sostenere politiche attive del lavoro, sociali e di protezione civile. Ancora una volta la virtuosa gestione finanziaria avviata con il governo Marsilio che ha portato al riequilibrio dei conti pur in una condizione di estrema difficoltà permetterà di non sprecare risorse anzi, di valorizzare progetti che avranno un impatto sociale. Sono molto soddisfatto del lavoro fatto. La strategia futura proseguirà in questa direzione. Avere sempre i conti in ordine e autorizzare i sborsi che hanno ricadute importanti sulla popolazione. Il consigliere regionale della Lega, Simone Angelo Sant, ha presentato una risoluzione in consiglio regionale per impegnare la giunta regionale a richiedere alla società Autostrada dei Parchi la sospensione dei lavori nel fine settimana sulla tratta Roma-Pescara-Roma-L'Aquila. La stessa risoluzione è stata condivisa dagli altri consiglieri del gruppo Lega che sono Dincecco, Cardinali, Montepara, La Porta, Marco Vecchio. Premesso che con il ritorno alla normalità sta iniziando una forte ripresa del turismo nella nostra regione con un spostamento di turisti in ingresso ed in uscita dalla stessa, Angelo Sant ha posto in evidenza che sono presenti sull'autostrada di collegamento Roma-Pescara e Roma-L'Aquila numerosi cantieri che danneggiano gravemente il traffico rallentando nella circolazione e creando seri pericoli agli utenti. Infatti, dichiara Angelo Sante, non è comprensibile perché i lavori insistenti sui tratti autostradali evidenziati non siano stati eseguiti durante i passati mesi in cui, a causa delle restrizioni da lockdown, il traffico è stato notevolmente ridotto. Tutto ciò ha determinato negli ultimi fine settimana a causa della presenza dei cantieri sull'autostrada a fine di circa 12 chilometri rientro a Roma provenendo dall'Abruzzo. Dopo la Digital Edition dello scorso anno, la Notte Europea dei Ricercatori, uno dei principali eventi internazionali dedicati al dialogo tra ricerche e cittadini, torna con una nuova edizione ebrita al 24 settembre prossimo. Si tratta di ritorno degli eventi dal vivo e Sherper L'Aquila si prepara ad animare luoghi e piazze. Sherper L'Aquila è organizzato, lo ricordiamo, dai Laboratori Nazionali del Gran Sasso con la collaborazione del Comune dell'Aquila e del Gran Sasso Science Institute, partner di progetto Regione Abruzzo, Istituto di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Astronomico d'Abruzzo, la società biofarmaceutica Dompe, la Leonardo Spa, associazione per l'insegnamento della fisica e associazione scienza Gran Sasso. Da questa edizione ci sarà anche il Maxi, che ha l'Aquila, a sede a Palazzo Ardinghelli. L'evento vedrà la partecipazione di polizia di Stato, carabinieri, guardie di finanza, vigili del fuoco e accademia di belle arti. E a proposito, apre finalmente le sue porte il Maxi l'Aquila, che verrà inaugurato venerdì 28 maggio alla presenza del Ministro della Cultura Dario Franceschini e di Giovanna Melandri, Presidente della Fondazione Maxi. Per festeggiare l'apertura del nuovo museo, sono stati organizzati quattro giorni di visite gratuite in anteprima, da domenica 30 maggio a mercoledì 2 giugno. Il Maxi l'Aquila sarà ufficialmente aperto dal 3 giugno, dal giovedì alla domenica, con ingresso gratuito per gli abitanti di l'Aquila e dell'Abruzzo per tutto l'anno in corso. Ed un programma ricco di interventi, spettacoli, proiezioni, laboratorio a tema scientifico e artistico. Si tratta di Leonardo Film Festival. È una manifestazione finanziata dal MIUR e dal MEC, rivolto ai ragazzi delle scuole e agli studenti universitari delle città di L'Aquila, Avezzano, Sulmona, Pescara e Terni. Numerosi laboratori scolastici e proiezioni pubbliche su scienza, arte, intelligenza artificiale, robotiche. È uno speciale omaggio riservato ad Isaac Simo, grande scienziato, divulgatore e scrittore. Festival chiuderebbe attenti, venerdì 28 maggio, con la premiazione del concorso cortometraggi scientifici. E si chiama Recover, il progetto di investimento candidato dalla Regione Abruzzo al premio Regio Stars 2021. Concorso istituito nel 2008 dalla Commissione Europea, premia ogni anno i migliori progetti finanziati dall'Unione Europea, che si distinguono per innovazione, eccellenza e sviluppo regionale. Il progetto Recover è una buona pratica frutto della programmazione europea 2014-2020. La Regione Abruzzo, attraverso il programma operativo regionale, ha confinanziato l'investimento con circa 3 milioni 300 mila euro, su un importo complessivo di 7 milioni 800 mila. Grazie al progetto è stato realizzato il primo impianto al mondo operativo a scala industriale, che consente di riciclare i prodotti assorbenti per la persona, ricavandone plastica cellulosa da poter riutilizzare, ridurre l'impronta ecologica di ognuno tramite l'eliminazione degli sprechi, la reimmissione dei materiali trattati nei cicli produttivi, esattamente l'obiettivo del progetto Recover, in linea con la strategia della Regione. A valutare le domande presentate e selezionate i vincitori sarà una giuria di accademici di alto livello. Ed aprono i primi due sportelli di ascolto e parte assistenza ad Abruzzo nella Marsica, grazie al progetto Inclusione Attiva per la Qualità della Vita, messo in piedi dall'Associazione per la Tutela degli Anziani, collaborazione con 5 importanti realtà del territorio, e con il patrocinio della Regione Abruzzo e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sono partiti i primi due interventi importanti a supporto delle persone sole e più fragili. Siamo partiti già su Cersoli San Vincenzo Ballerovetto, ha commentato la Presidente dell'Ad Abruzzo, Leonora Pensa, sia con il welfare leggero, sia con lo sportello di ascolto. Grazie alla collaborazione con l'Avis di San Vincenzo e Roccavivi e la Croce Rossa Italiana, Comitato di Cersoli. Stiamo lavorando intanto con la Croce Verde Civitella-Roveto e l'Avis Scurcola-Marsicana e presto lancieremo anche con loro questo importante servizio di supporto alle persone anziane. Dal 4 al 6 giugno l'Aquila e l'Abruzzo diventeranno la cornice del Food and Rosé Selection by CMB, un evento unico di portata internazionale. Si tratta di una competizione a livello mondiale tra gli abbinamenti gastronomici con le eccellenze da vini rosati, ma anche un'importante occasione per promuovere il nostro territorio all'interno di un circuito internazionale che sicuramente saprà apprezzare e valorizzare la nostra enogastronomia. La prima edizione della sfida Food and Rosé Selection dal 4 al 6 giugno chiamerà raccolta all'Aquila la personalità del mondo del vino rosato, della gastronomia d'eccellenza, ma anche i vini premiati con le grandi medaglie d'oro e le medaglie d'oro nella prima edizione che si è svolta lo scorso marzo a Bruxelles. Saranno loro infatti insieme ai piatti firmati da docenti, dai ragazzi dell'Istituto Alberghiero Leonardo Da Vinci dell'Aquila, i protagonisti della tre giorni aquilana che, oltre a intense sessioni di degustazioni, prevede anche incontri di approfondimento e dibattito su grandi temi legati al Dream Pink. Nella sala Benedetto Croce del Consiglio regionale si è svolta, giorni scorsi, una conferenza stampa sul progetto di legge depositato in Consiglio regionale per localizzare la sede del soccorso alpino e speleologico abruzzese nella città dell'Aquila, capologo di regione. Il progetto di legge, promosso dal primo firmatario per Paolo Pietruccio, è stato condiviso e sottoscritto dai consiglieri regionali di Benedetto, Sant'Angelo, Angelo Sante, Mariani e Quadieri. Il soccorso alpino in Abruzzo nell'Italia centrale è stato ricordato. È nato all'Aquila nel 1958, dove fu istituita la prima sede ufficiali a seguito della tragedia avvenuta sul Monte Camicia dove persero la vita tre tecnici dell'ENI. Da allora l'attività del soccorso alpino è cresciuta garantendo assistenza e sicurezza di escursionisti e alpinisti. Per me il 90% degli interventi si svolge sulle montagne del Gran Sasso e del Sierente Velino essendo le più impervie, frequentate e pericolose. L'anno scorso, per decisione unilaterale del direttivo abruzzese, la sede del soccorso alpino è stata localizzata a Pescara. È stata una scelta sbagliata e scorretta perché fatta al di fuori di ogni condivisione istituzionale con la regione Abruzzo e senza criteri effettivi di efficacia e di intervento. All'Aquila, come in ogni altro capoluogo regionale d'Italia, ci sono tutte, quindi, le migliori condizioni logistiche, organizzative e funzionali. Questa era l'ultima notizia, quindi il giornale termina qui. Prima dei saluti vi ricordiamo che questa edizione la potrete rivedere sul nostro sito internet che è antena2tv.it o sulla nostra pagina Facebook Antena 2 Avezzano. Grazie per averci seguito anche oggi e arrivederci. Grazie. 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 Grazie.